Si è svolta a Bagnara Calabra, alla presenza di molti giovani, amministratori e cittadini, la settima tappa del Tour del No, promosso da Idea Calabria, tappa che è stata organizzata dal coordinatore di Idea Calabria per l'area della Costa Viola Pasquale Pirrotta. Tanti gli interventi per spiegare, hanno detto gli organizzatori, in maniera chiara e precisa quelli che sono gli aspetti drammatici di una riforma costituzionale che attraversa assurde manovre ha il solo scopo di strappare la sovranità al popolo italiano, impedendogli di fatto di eleggere i propri rappresentanti in Parlamento e che devia tutto il potere nelle mani di un solo soggetto. Nel dibattito moderato da Vincenzo Tripodi, membro di Idea Calabria, hanno relazionato Pasquale Pirrotta, coordinatore dell'area della Costa Viola di Idea Calabria, Michele Spoleti, Carmela Bagnato, New Entry del Movimento, Michele Filippelli, presidente del Comitato Centrostudi Lapire e Giuseppe Raffa, presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria. Siamo fermamente convinti che sostenere il No alla riforma referendaria sia non solo un diritto che ci è stato dato, non perché l'esercizio del referendum è stato voluto da qualcuno dal governo, l'hanno dovuto fare perché non hanno raggiunto il numero di voti necessari alla Camera per poterlo approvare e quindi anche in questo caso superare la volontà popolare. Votare no è un dovere, ecco per questo dovere stiamo girando tutta la provincia perché oggi a Bagnara abbiamo sostenuto con forza i motivi del no perché riteniamo che c'è in gioco il futuro della democrazia, il futuro dei nostri giovani e soprattutto si pregiudono a due aspetti fondamentali. La sovranità popolare, visto che ci stanno abituando ormai al cittadino di utilizzarlo come uno strumento da accantonare in un angolo e di non esercitare il diritto di voto, peraltro sancito dalla Costituzione e peraltro sancito anche da una sentenza della Corte Costituzionale. La stessa Corte Costituzionale che si vuole in qualche modo piegare, far piegare ai voleri di un Parlamento con un sistema elettorale che è quello dell'Italicum verso il quale il Presidente Renzi dice di volerlo cambiare, conoscendolo e avendone apprezzato la sua slealtà ritengo che sia difficile che lui abbia intenzione di modificare l'Italicum perché lo dice oggi perché vuole spuntarla con il sì. Quindi votiamo no e lo facciamo per i nostri territori e per i nostri figli. Oltre ad un breve saluto tramite videomessaggio da parte del coordinatore di Idea Calabria, Pietro Borrello, sono stati numerosi gli interventi del pubblico in sala da parte di cittadini ed esponenti di associazioni e comitati vari che hanno inteso esprimere la loro motivazione al no al referendum.